quindi buonasera a tutti benvenuti questa è la seconda serata di conversazioni dal mare abbiamo inaugurato questa meravigliosa location qui a Giovinazzo in Calaporto stiamo per dare il via ad una giornata abbastanza lunga e ricca con ben quattro appuntamenti conversazioni dal mare è giunto all'ottava edizione e ieri è aperto con degli aperitivi eh sull'innovazione e poi ogni giorno compreso anche domani c'è uno spazio dedicato ai bambini perché questa è un'edizione family friendly bambini dai tre anni in poi che vengono seguiti da Lucrezia Mastrapasqua con un laboratorio di lettura e di disegno io ringrazio ancora prima di iniziare tutto lo staff tecnico i nostri amici che ci stanno riprendendo la Croce Rossa il corpo di polizia municipale e soprattutto i tantissimi ragazzi che stanno collaborando con noi sono ragazzi di scuola eh delle scuole di giovinazzo che stanno dando una mano nell'accoglienza nell'info point ma eh diciamo che stanno testando anche un'esperienza valida su come gestire un evento un grande evento eh per chi acquisterà i libri eh di fronte a me c'è la postazione delle vecchie segherie si può acquistare il libro e poi dopo spostarsi sulla destra nell'angolo dedicato al firma copie eh insieme verranno eh omaggiati di due segnalibri uno con dei buoni sconti del di uno dei partner che la cop e poi ce n'è anche un altro come segnalibro profumato eh omaggiato dalla profumeria Sharma ma entriamo nel vivo entriamo nel vivo della nostra seconda serata e come al solito prima di introdurre gli ospiti partiamo con un contributo video. Eh questo libro nasce da spunti di vita personale e un po' da una riflessione più diciamo astratta che mi vado portando dietro un po' di tempo sulla quale avevo avuto in mente di scrivere da anni ormai che gira attorno al concetto di rapporto con la morte che ha la nostra civiltà che secondo me è un rapporto un po' malato perché è in corso secondo me è una sorta di rimozione proprio del concetto della nostra transitorietà della nostra condizione non si parla più tanto siamo un po' distorti e orientati verso verso tematiche più frivole. La frivolezza è fondamentale il punto è che se fai spazio solo alla frivolezza nella tua vita poi non riesci a elaborare questioni veramente fondamentali alla fine e ti perdi qualcosa che comunque mettendola sotto il tappeto non la non la fai scomparire quella da qualche parte va e in effetti il romanzo quando me lo si chiede tendenzialmente dico che è una storia che parla dell'amore a cosa succede all'amore dopo l'amore. Questa sera conversazioni dal mare organizzato dall'associazione Artemia apre con la presentazione della ragazza eterna di Andrea Piva un viaggio dentro la psiche umana le sue sofferenze ma anche le sue possibilità di apertura condivisione generazione di nuovi universi. Tutto questo mettendo in scena la comedia umana con irresistibile umorismo. Piva già scrittore della capagira di mio cognato questa sera conversazioni dal mare per confrontarsi su questo romanzo sociale di altissima suggestione e coinvolgimento. Modera l'incontro la giornalista Antonella Gaeta con il vostro applauso chiamo sul palco Andrea Piva. Buonasera e benvenuta benvenuta Andrea palco tutto vostro. Buonasera allora da giovinattese da adozione mi dovete consentire di fare un plauso alla situazione e a conversazioni dal mare abito proprio a due isolati cioè qui nel centro storico mai mi era successo di avere la possibilità di presentare così comodamente un libro e sono particolarmente contenta che sia il libro di Alessandro Piva e quindi benvenuti. Alessandro ha detto l'avete sentita tutti. Cioè praticamente sono stata tutto il pomeriggio a pensare non devo dire Alessandro. Mi si giustifica il fatto che oltre che giornalista sono sceneggiatrice però non mi si giustifica. Ti stai scavando la fossa ancora di più secondo me così. Non rimane più niente da scavare. No anche perché al principio la presentazione è un libro sulla morte sì un libro sulla morte così in piena estate ci viene anche da pensare e quindi cominciamo con leggerezza e dicevo benvenuta a conversazioni dal mare perché dalla linea di mare che qui c'è lo sciabordio alle nostre spalle dalla linea di mare arriva a noi Andrea 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 Piva. Da Bari arriva Andrea perché i suoi libri le sue sceneggiature già citate sono intrise di Bari che è città di mare c'è Bari anche in questo libro ma ci arriveremo. Ormai è giugno Andrea io ho già presentato questo tuo libro a gennaio e devo dire che sono passati sei mesi e rimane nel mio cuore probabilmente il libro più bello del 2024 il libro che ho più sentito più sentito intensamente ci conosciamo è vero con Andrea e quindi il privilegio quel privilegio rarissimo e che forse noi tutti vorremmo di scrivere allo scrittore di solito quando si finisce in questo caso durante ho compulsato Andrea maledicendolo ecco ve lo dico molto sinceramente perché il libro era estremamente toccante come ho scritto nel mio articolo su Repubblica innesca il binge reading cioè la lettura continua cioè tu quando leggi un libro che ti tiene e credetemi per chi fa questo mestiere avere un libro che ti tiene è sempre più difficile dopo 20 anni 25 anni di letture per lavoro e quindi tornare a casa per leggere andare sul pullman e leggerlo sul telefonino continuare continuare un libro profondissimo un libro bellissimo intenso che parla di morte che parla d'amore che costruisce così bene i personaggi che ti commuove entra dentro il tuo cuore la tua testa ti mette al confronto con la tua finitezza e sì che Alessandro Andrea non ne usciremo da questa cosa te lo dico tanto con tutti i complimenti che stai facendo te la cavi alla grande sì che diciamo quindi mi sono interrotta cioè abbiamo un fantasma qui ci abbiamo il convitato di pietra e quindi questo libro accade Andrea accade a pagina 30 ve la segnalo perché spero che chi di voi non abbia letto questo libro alla fine lo acquisti accade a pagina 30 che suona alla porta Renata la ragazza Uragano la ragazza Eterna la protagonista di questo romanzo torna dal suo ex boccia torna con una notizia in fausta al cancro e le rimane poco da vivere immaginate proprio come accadeva nell'animale morente di Philip Roth a questo punto devi continuare a leggere devi conoscere assolutamente Renata devi capire come se ne uscirà da questa situazione devi stare con boccia che accoglie questa donna che è amato e continua ad amare e chiamerà per sempre come gestirà questa notizia allora Andrea da dove viene Renata chi è Renata soprattutto dove viene questa storia buonasera a tutti intanto anche io volevo ringraziare ci tengo a sbagliare nome non sbagliare nome poi a di lei non posso confondermi con nessuno tanto ringrazio a lei che è stata coinvolta l'ultimo venuto per un incidente sfortunato purtroppo che è successo a chi doveva presentarci non perché fosse una seconda scelta ma perché lei come ha già detto mi aveva già presentato una volta mi sembrava troppo chiederle di offrire un nuovo contributo a questo libro a cui era già abbondantamente dato sia sul giornale che umanamente che in presentazione e poi vabbè avere lo sciabordio delle acque dietro a pochi metri è impagabile proprio quindi sono proprio contento di essere qui grazie dopodiché questa storia da dove viene ogni volta che me lo si chiede io dico una cosa diversa in realtà e oggi dico una che non ho mai detto però che mi è venuta in mente guidando vedendo qua il nucleo diciamo il movente proprio l'incidente dinamico della mia vita che ha causato che io riflettessi più a fondo su queste cose è stato è accaduto sette otto anni fa non saprei dire con più precisione il giorno in cui ho visto un documentario su un intellettuale americano che un uomo di sui 75 anni che era un cineasta un uomo che ha lavorato nel cinema da quando era giovane e che faceva però documentario dico faceva perché purtroppo lui è morto il documentario parlava della sua esperienza con il rapporto con la morte perché in effetti quella narrazione iniziava in un modo inizia parliamo di inattualità inizia in un modo piuttosto cupo con il suo racconto di come l'avere avuto una diagnosi in Faust gli avesse cambiato completamente la vita portandolo nel vicolo cieco della depressione cosa che succede tantissime volte a chi si trova di fronte a fasi così complicate dell'esistenza a lui nella clinica in cui si stava curando da un punto di vista oncologico uno psichiatra che ha rincontrato dopo tantissimi anni che era suo amico di gioventù gli ha detto ma tu lo sai che noi stiamo provando di nuovo dopo tanti anni a sperimentare clinicamente con gli psichedelici e abbiamo scoperto che al contrario di come si era temuto e dato per certo per tanti anni in realtà queste sostanze possono aiutare molto a migliorare il quadro clinico di chi come te sta andando incontro alla morte e lui racconta di come una singola esperienza con la psilocibina che è la sostanza attiva che è presente in alcuni funghi il suo rapporto con la morte si è cambiato drasticamente che lui si è uscito dalla depressione io ricordo perfettamente tutta questa narrazione mi sembrava una cosa surreale non capivo neanche bene di cosa stesse parlando questa persona però quando verso la fine del documentario lui si commuove pensando a quanto intensamente quella singola esperienza in una clinica sotto sorveglianza medica sotto supervisione medica nell'ambiente controllato avesse cambiato la sua esistenza negli ultimi tempi della sua vita mi sono commosso e ho capito una cosa che non avevo idea potesse essere mai vera ovvero che forse questa cosa che ci hanno detto per 40 anni di seguito è la cosa peggiore che può capitare nella tua vita è l'esperienza peggiore che puoi fare nella tua vita finirai per la strada a chiedere le monsina ucciderai, farai crimini se ne usi ti butterai dai balconi forse poteva essere qualcosa che ci aiuta a ragionare del nostro posto sulla terra in un modo più compiuto, più maturo, più liberato e forse ci può aiutare anche ad andare incontro al nostro destino perché questa persona glielo leggevi negli occhi che lui era proprio grato a cosa era successo quella singola volta perché non è che questa è una sostanza che poi si usa chissà quante volte la usi una volta e poi non c'hai più voglia di farla perché è un'esperienza talmente intensa non è né brutta né bella è talmente intensa ti porta a parlare con le zone più profonde di te stesso e ti cambia la vita quel giorno per me quel giorno ha messo in moto in me tutta una curiosità sull'argomento e da quello poi per vie e traverse sono arrivato a concepire una storia come quella di questo libro che in effetti forse è parallela a questa però chiaramente è molto diversa nel suo cuore soprattutto perché chi sta affrontando l'ansia di andare incontro alla morte non è un uomo di più di 70 anni ma una donna molto vitale piena di vita, enorme una donna intelligentissima, fortissima fortissima e probabilmente io non ho mai capito bene perché abbia scelto di rappresentare lei in quel modo probabilmente a posteriori mi viene da dire che proprio perché era la situazione più sfidante per un racconto del genere chiaramente la morte non è mai quello che diceva Fenoglio la morte di ogni morte dovremmo dovremmo tenere conto come se fosse la morte del più grande degli uomini perché la morte per ognuno di noi è l'evento più rappresentativo forse anche della nostra esistenza dicevo un'altra persona che mi ha presentato un po' di tempo fa Enzo Mansueto che è un suo collega giornalista forse provocatoriamente si potrebbe dire pure che la vita può essere vista da due lati se si può dire che stiamo vivendo si può anche dire che forse sotto un certo punto di vista stiamo morendo nel senso che l'una e l'altra cosa appartengono alla stessa sfera e ogni giorno che passa nella nostra vita ne abbiamo uno in meno su questa terra quindi rappresentare una persona giovane piena di vita nel confronto con questo tema chiaramente lo amplificava e mi rendeva il compito molto più difficile lo rendeva anche ai miei personaggi però io sono uno di quelli che davanti alle sfide più sono ardite e più ci trova gusto diciamo quindi quando ho capito che mi sarei messo in una valle di lacrime ho accettato il mio destino e infatti così è stato sono entrato in una valle di lacrime tant'è che mi sono talmente talmente immedesimato in questo personaggio che sono stato male mentre scrivevo ho dovuto fermarmi più di una volta ho pensato molte volte di non finirlo più ci ho messo sei anni insomma tutte cose che sono fuori scala perché questo possa essere il normale lavoro di una persona infatti ha influito con la mia vita in modo negativo sotto tanti aspetti diciamo quindi diciamo non per dire che questa sia la mia missione chissà cosa sono venuto a raccontare al mondo però insomma nei confronti di me stesso ho sentito di doverlo affrontare il tema e l'ho fatto nel modo più sincero più autentico che avessi l'hai fatto nel modo più profondo anche Nicola la gioia nel presentare questo romanzo annotava come ci metti tantissimo per scrivere un libro ne hai scritti tre in diciotto anni se non vado errato quindi c'è sicuramente una grandissima stratificazione di esperienza non ultima l'ayahuasca per esempio un'esperienza di viaggio che tu stesso Andrea hai fatto in prima persona e si sente si sente come le dimensioni che chiama in causa con la sua scrittura che è una scrittura estremamente lavorata c'è un laborlime che si avverte e ve lo dico è sempre più una rarità ti faccio una domanda diretta Andrea com'è che ci metti tanto a scrivere un romanzo ci metto tanto soprattutto perché anche quando mi capita la fortuna perché tale la ritengo di arrivare facilmente a individuare una storia per me la cosa più difficile deve ancora venire del lontana cioè individuare la voce con cui raccontare quella storia chi ha letto più di una cosa che ho scritto sa che i miei personaggi parlano con lingue piuttosto diverse poi chiaramente alla fine la penna è la mia però i punti di vista e il taglio e gli umori i colori che emergono dalla prospettiva di chi sta parlando sono sempre diversi e sono sempre specificamente quelli non sono non è non è che io abbia messo appunto una mia scrittura e usi quella sempre per fare tutto quello che faccio quindi per ogni volta individuare quel timbro preciso quel registro che poi magari da fuori non sembra neanche chissà non sembra che ci sia lavoro infatti questo lo dico se ti ricordi la prima telefonata che ci facevamo sul libro utilizzessi questa cosa del duck pugling gli inglesi nel mondo anglosassone ha un'immagine per presentare questa cosa si dice duck pugling quando ci si riferisce a un lavoro estremo sfiancante continuo che però si nasconde completamente perché ci si fa riferimento al nuotare delle oche che stanno in superficie completamente ferme e sotto stanno muovendo freneticamente per muoversi davanti tendenzialmente quelli come me hanno come obiettivo finale della scrittura quella cosa lì cioè fare sembrare quello un gesto completamente naturale anche minimo anche minimale e però facendo un lavoro sotto la base molto forte continuo logorante anche se vuoi quindi si la cosa più cospicua del mio lavoro di scrittura è trovare il registro linguistico perché ci metto così tanto è proprio quello il motivo prima di tutto ho bisogno di individuare un tema che mi sembra degno di essere raccontato cioè che rappresenti una problematica significativa della nostra cultura at large e non è facile chiaramente individuarlo perché per definizione la contemporaneità si vive vive se stessa dico ma difficilmente mette a fuoco se stessa il ragionamento sulle epoche è sempre il ragionamento di un'epoca successiva che guarda all'epoca precedente è la stessa cosa che dico quando mi dicono ma chi sono i grandi scrittori oggi io non lo so chi sono i grandi scrittori oggi probabilmente non io ma comunque al di là della questione mia personale credo che sia complicatissimo se non impossibile capire veramente con precisione chi sono gli scrittori che rimarranno perché ma anche i pittori che rimarranno anche gli artisti in generale che rimarranno perché quella è una cosa che si capisce solo con il passare del tempo solo quando la polvere della storia si è fermata si è posata a terra perché questo non mi ricordo c'è uno scrittore che lo diceva forse Bernard non mi ricordo diceva spesso gli scrittori che brillano di più sono come le meteoritiche sono corpi celestiche diventano più luminosi del sole ma per un attimo poi dopo non sono astri non sono stelle del filmamento perenne quella cosa lì la capisci solo quando scende la notte quando passa il tempo come vedete è sempre come dire estremamente illuminante lasciarsi rapire da Andrea quando comincia a prendere le sue strade a raccontarsi a raccontarti evidentemente un ragazzo di buone e tante letture oltre di buone e profonde scritture e proprio perché mi piace ascoltarti ti invito a rifare ovvero possibile il racconto proprio della costruzione di Renata che è la ragazza morente però credetemi è full of life è piena di vita arriva a sconvolgere ancora una volta la vita con la sua morte che non è che avviene al principio la vita di boccia del suo ex fidanzato e quindi questo personaggio diceva Andrea che ha dovuto trovare la sua voce la voce è maschile la voce è di boccia il punto di vista è di boccia c'è anche una si concede anche c'è un capitolo bellissimo in cui cambia lo sguardo cambia la voce diventa lui stesso diventa la voce di Renata quindi come hai costruito Renata perché Testello dicevamo gli scrittori sono un po' come dei vampiri guai diciamo a vivere essere amica o diciamo anche compagna di uno scrittore che lì qualsiasi cosa che dici che fai finirà vampirizzata finirà nella pagina e quindi la curiosità è diciamo la devi concedere come l'hai costruita questa bellissima Renata Renata in questo caso più che vampino sono stato dottor Frankenstein perché ho sezionato parti hai fatto una bella Baxter praticamente ho composto una specie di bellissimo mostro da qualità di non sempre le migliori qualità però forse la combinazione poi ha dato vita a un personaggio che nel complesso è molto bello veramente adesso io una Renata non l'ho mai conosciuta però proprio è come se lo avessi fatto perché io ancora quando penso a lei non penso a un personaggio penso a una persona viva e non c'è mai stata poi il rapporto con cui avendo pure scritto per così tanto tempo sono rimasto proprio materialmente sulla pagina per tanto tempo con lei per me è proprio parte della mia vita però dal punto di vista meccanico come ci si è arrivato lì come ti accennavo un secondo fa alla fine la risultante del tagliacuci di qualità eterogene di donne eterogene che ho conosciuto nella vita e qualche uomo anche poi in effetti le pagine in cui il romanzo viene raccontato da due punti di vista c'è una voce narrante una prima persona che è semplicemente la voce di un personaggio e poi c'è una terza persona onnisciente e tutte e due sono l'una la seconda neutra la prima evidentemente maschile a un certo punto del libro c'è un capitolo di pochissime pagine tra l'altro tre o quattro pagine in cui ho fatto parlare il personaggio femminile che alla fine è il vero protagonista di questa storia quelle tre o quattro pagine sono state le pagine più difficili mi sono costate almeno due o tre mesi di lavoro in cui ho fatto solo quello proprio perché per quello che ti andavo dicendo prima individuare la voce del mio personaggio è sempre complicato per me più per un fatto di mania mia che di chissà quale risultato e a maggior ragione dovendomi confrontare con l'immedesimazione nel personaggio femminile in più una persona più colta di quello che sono io perché nella rappresentazione narrativa questa è una donna che ha studiato la normale stracolta cita autori di tutte le epoche a memoria parla 20 milioni di lingue era proprio complesso soprattutto in tempi in cui diciamocelo c'è anche una questione di di politically correct perché addirittura cioè insomma non è semplice oggi non è perdonato non è visto di buon occhio cosa per me quasi surreale ma comunque oggettivamente bisogna anche fare i conti con la realtà lo zeitgeist non vede di buon gusto oggi il mettersi nei panni da scrittori nei panni di un genere che non è il proprio o una cultura che non sia la propria addirittura in America si fa si contesta che come è successo che uno scrittore bianco traduca uno scrittore nero o che una donna traduca un uomo sostanzialmente più problematico per loro il contrario cioè che un uomo traduca una donna perché il punto sarebbe non riuscirai mai tu uomo a tradurre adeguatamente perché non riuscirai mai a capire ad entrare veramente nel modo di ragionare della persona che stai traducendo da uomo che sono discorsi che sinceramente io non condivido se non in parte e che però con i quali comunque devo fare i conti perché da persona che comunque porta il proprio corpo tutti i giorni per strada e partecipa al discorso pubblico anche seppur in maniera piuttosto marginale questo tipo di questioni me le devo porre quindi diciamo già era complicatissimo in più c'è la questione del ma no speriamo che non mi sparano quando esce questa roba è stata complicatissima e comunque devo anche dire in tutta onestà che quelle sono le pagine che io personalmente forse preferisco proprio perché sono quasi quasi lavorando di scrittura automatica a un certo punto sono le pagine più distanti dalla mia sensibilità letteraria e quindi quando mi è ricapitato io difficilmente mi rileggo però quando mi è capitato sott'occhio di nuovo quel passo lì ogni volta sono rimasto stranito in positivo perché meravigliato in positivo perché mi sembrava una cosa talmente altra da me da essere non come tutte le cose che faccio buttata a mare appena posso facciamo riferimento al principio la città in cui si svolge la maggior parte dell'azione narrativa è Bari Bari che non ti è affatto estranea Andrea ha vissuto per lungo tempo a Roma a Bari ha deciso di tornare a vivere non è una Bari esattamente solare non è una Bari tutto sommato sana è una Bari dell'underground che ci porta a conoscere direte non è una novità per Andrea che è lo sceneggiatore di un film nodale per la conoscenza di noi stessi come la Capagira ma anche mio cognato se vogliamo stare nel sottobosco notturno appunto e quindi questa Bari tra l'altro Andrea mi ricordo a mia collega in occasione di un'inchiesta sulle squad girl un giro di prostituzione eccetera sei stato intervistato per la tua quasi lungimiranza si diceva in quell'articolo perché poi Renata quando rifiuta quello che le sta accadendo rimuove quello che le sta accadendo allora comincia a navigare a conoscere a spostarsi in questo magmatico in questa magmatica suburra la possiamo anche chiamare raccontaci anche della scelta ancora di restare a Bari e in quella a Bari se vuoi eh sì allora guarda questo discorso è un po' complicato per me perché sono andato cambiando idea più volte su questa cosa evidentemente non l'ho messa veramente bene a fuoco a me è sembrato più naturale che altro cioè almeno questa volta non è stato oggetto di discussioni di dibattito interno diciamo dove ambientare questa storia qui mi è venuto proprio spontaneo ad operare questa cornice ma devo anche dire che a differenza di tante altre cose soprattutto dei miei film come La Capagira ma anche forse il mio primo libro e anche il secondo libro allora il mio primo libro parla di Bari il secondo libro parla di Roma e in entrambi i casi le città sono protagoniste in il mio primo film La Capagira chiaramente lì proprio Bari è uno a tutti gli effetti uno dei protagonisti della narrazione in questo caso non lo so non sono sicuro che questa sia una città connotata che la città di questa narrazione sia connotata in modo tale che non sarebbe stato possibile spostare l'ambientazione a Reggio Calabria non lo so secondo me proprio perché tratta non più tanto di una caratteristica che secondo me è spiccatamente espressione del genus loci ma piuttosto rappresentativa di una classe sociale e infatti quando si parla per esempio di quello che si capisce essere non è mai esplicitata la cosa ma si capisce essere un giro di prostituzione io credo anche per onestamente averlo proprio visto che quel fatto là non è un fatto solamente barese quello appartiene proprio c'è un internazionale dei puttanieri si può dire che si riconosce fuori dal confini nazionali dal censo e c'è se c'è chi compra c'è chi offre quella è una è proprio una cosa trasversale che è veramente trasnazionale ed ha a che vedere con probabilmente l'eccessiva concentrazione di denaro nelle mani di una classe sparuta di un manipolo sparuto di persone in giro per il mondo i quali si sentono padroni del mondo e sotto certi punti di vista lo sono e sono portati a interpretare le cose del mondo le cose come tutto compreso l'umanità compreso gli uomini come oggetti di proprietà di cui disporre come con le regole della compravendita in generale quindi diciamo sì poi qualcuno invece mi ha fatto notare che però anche se sì questa cosa è trasversale appartiene a più la cassa sociale che questa città non specifica poi alla fine comunque la città è molto tipicamente caratterizzata io ancora forse ho bisogno di più tempo per capirlo meglio però certamente se penso alla cabagira se penso all'animale notturno lo vedo come le città hanno un peso diverso secondo me io questo lo potrei fare come sfida se non fosse che ci metterei altri 25 anni potrei scrivere questo libro ambientato senza problemi a Salerno per dire quando ti ho intervistato per Repubblica il libro stava uscendo i temi che sollevava il libro erano tanti era il tema della morte era la battaglia di civiltà come dicevi Andrea cioè il viaggio psichedelico il viaggio psichedelico curativo chissà come la gente reagirà a questa mia presa di posizione che è netta che è chiarissima quindi nella distanza dei sei mesi ti chiedi di fare un bilancio con me è stato difficile presentarlo hai avuto reazioni ti dirò io io ieri stavo a Salerno a presentare il libro ragionando con uno psichiatra tra l'altro che è stato per la prima volta mi ha presentato uno psichiatra in realtà mi ha copresentato un altro psichiatra locale diverso tempo fa Bisceglie ma questa è stata la prima volta che proprio eravamo in dialogo a tu per tu con uno psichiatra questa cosa è notevole per due ordini di ragione la prima è che si parla di cose che hanno a che vedere con il disagio psichico soprattutto nel mio libro come avete capito la seconda è che il protagonista maschile di questa vicenda è uno psichiatra che ragiona quasi tutto il tempo con un altro psichiatra sul cosa fare nella propria carriera professionale a proposito di queste sostanze e si consultano questi due personaggi anche per capire fino a che punto spingersi nel proporre a Renata che è in questo di stress emotivo particolarmente feroce una cura con una seduta di psichedaria ragionando con lui ieri mi sono reso conto che io in effetti dentro di me sono pentito di aver affrontato il tema per una serie di ragioni perché ieri facevo proprio i conti di questa cosa oggettivamente non per fare mole eroe che mi devo immolare ho voluto dire la verità e adesso mi ostracizzano non è così per fortuna però comunque ho alcuni dati con me che parlano piuttosto chiaro il mio precedente libro che ha venduto un terzo di questo qui è stato recensito almeno 20 volte sulle testate nazionali questo siamo a tre e questo era un libro che è stato presentato al premio strega da Nicola Laggioia che è un attore molto importante della nostra letteratura quindi io credo adesso e ripeto non voglio stare a fare la parte del del perseguitato politico però evidentemente qualcosa ci deve essere perché insomma io comunque sono un uomo di numeri per tanto tempo ho vissuto poi mi sono procurato il pane imparando a gestire a leggere la statistica la probabilistica perché ho fatto il proprio giocatore di poker professionista a un certo punto della mia vita quando mi sono scocciato di dipendere dalla letteratura e dal cinema che sono informate da logiche che io non condivido in nessun modo ad alcuni livelli e questi numeri qui non è che cioè sono molto chiari e secondo me al certo punto però se sono pentito da un punto di vista alla fine pure diciamo è la parte più piccola di me che è pentita di questa cosa in realtà non lo sono io so che quando l'ho fatto lo dovevo fare non ne so ecco diciamo sono pentito da un punto di vista così scherzoso e non so come dire cioè ecco l'Andrea di oggi se dovesse incontrare l'Andrea Piva di sei anni fa che iniziava a scrivere il libro gli direbbe ma tu sei sicuro sicuro questo sicuramente però non gli direbbe no non fa non fa sta cosa dopodiché c'è una cosa che è una frase famosa cioè mi è sembrato però e devo dirlo questo che come l'ho espresso nel libro io non riuscirò mai a dirlo neanche comparabilmente in un evento anche come questo non perché io sia così particolarmente scarso esprimere le mie idee ma proprio perché ci ho messo così tanto e l'ho fatto con tanta passione tanta intenzione facendo solo quello per tantissimi anni e credo che a un certo punto io sia arrivato un po' come adesso si parvalice non vorrei compararmi troppo però lo dice un personaggio che ancora una volta forse oggi poco è capito nella propria grandezza la grandezza di questo personaggio lo si capirà più tardi però l'inventore del bitcoin che si chiama Satoshi Nakamoto che è un uno pseudonimo evidentemente che in realtà faceva capo probabilmente proteggeva un collettivo di menti veramente molto molto capienti a un certo punto in un forum pubblico quando stava ancora per essere lanciato non esisteva ancora il primo server che minasse come si dice in gergo bitcoin su un forum c'è una persona in particolare che tra l'altro è uno scienziato di un certo livello che non capiva il concetto che gli fa tutta una serie di domande lui gli risponde molto attentamente a tutto poi a un certo punto dice senti fratello a questo punto io ti ho dato tutte le informazioni però se tu non lo capisci o non ci credi mi dispiace ma io a questo punto non ho più nel tempo nella voglia di stare a convincerti con la questione psichedelici sinceramente io sto entrando in questa zona qua perché l'ho fatto con tutto me stesso con tutta la forza che potevo con tutto l'impegno che potevo nel modo migliore che potevo e però a un certo punto ho dato al mondo ripeto non ho offerto bitcoin al mondo che cambierà il nostro mondo per sempre però ho offerto una relazione letteraria che affronta in un modo semisaggistico e però calato in un contesto di azione emotiva molto forte tutta la questione della terapia psichedelica che è ancora oggi un rimosso enorme un tema ostracizzato in modo violentissimo a tutti i livelli un tema di cui non sentirete più parlare se no da un fesso come me che ha bisogno questa sera ci voleva anche questo intervento io volevo ringraziarti penso che stavo andando in chiusura perché cerchiamo di rispettare un po' tutti gli orari delle mi stavo impiccando come hai visto quindi grazie da lettrice non pentita della ragazza eterna ringrazio Andrea Piva vi invito assolutamente a leggere il suo romanzo e a sostenerlo grazie grazie a tutti voi di essere venuti io voglio ringraziare Antonella per questa conversazione e voglio ringraziare Andrea non so se ti chiamerò Alessandro da stasera però ci sta tu si grazie abbiamo rotto il ghiaccio con Andrea Piva grazie mille grazie grazie a tutti buona sera